Il futuro dell'inceneritore di Livorno, situato nel deserto russo delle picchianti, sembra segnato, anche se da qualche mese pare che su questo tema, di scarso impatto sull'opinione pubblica, l'amministrazione comunale stenti a trovare la quadra con alcuni settori del Partito Democratico e soprattutto con le organizzazioni sindacali. Ci sono 40 lavoratori addetti all'inceneritore da ricollocare e pare che il passaggio dall'impianto agli uffici, nello specifico alla gestione della tariffa puntuale, possa integrare il rischio di un demansionamento. Per questo ed altri motivi, FP, CGL, FIT, CISL e UIL Trasporti hanno indetto per il prossimo lunedì 21 novembre una giornata di sciopero per chiedere all'amministrazione comunale e all'azienda di non spegnere il termovalorizzatore e contestualmente di rispettare gli accordi sulla stabilizzazione dei precari. La chiusura del termovalorizzatore, prevista per l'ottobre del 2023, qualora entro il 30 novembre prossimo il gestore pubblico non producesse la documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, non fa dormire sonni tranquilli ai lavoratori che da parte loro sollevano anche una questione giuridica. Ad avviso di CGL, CISL e UIL, infatti, lo spegnimento dell'impianto senza la contemporanea entrata in funzione di impianti alternativi per lo smaltimento dei rifiuti potrebbe configurare una violazione di legge per chi è Europa ed Italia, almeno qui convergono, sulla progressiva riduzione del conferimento dell'indifferenziata nella discarica. La vera alternativa al termovalorizzatore, aggiungono i sindacati, sarebbe l'ossi combustore di peccioli che potrebbe però entrare in funzione non prima del 2026. Tutte condizioni che si rifletterebbero a cascata sul valore medio di un Atari destinata comunque ad aumentare a seguito dei conferimenti esterni e dei mancati introiti per la vendita dell'energia elettrica. Una prospettiva cupa, quella disegnata dai sindacati, che non preoccupa però più di tanto il sindaco di Livorno Salvetti, determinato a sostenere la svolta di AMS a partire dal prossimo 18 di novembre, quando Comune e Reti Ambienti si misureranno in Regione su autorizzazioni e impiantistiche alternative.